Mai avrei immaginato che la politica potesse bussare alla mia porta, in realtà è stata proprio la società civile. Tantissime persone che non hanno mai fatto politica mi hanno chiamata e mi hanno detto Manila, secondo noi tu potresti essere il volto di una politica rivoluzionaria, di una politica per i più deboli, di una politica per tutti quelli che si sentono lasciati in fondo alle classifiche. Una campagna elettorale dedicata alla difesa degli ultimi e degli esclusi, di chiunque è stato costretto a vivere margini della società, troppo a lungo dimenticato. Manila Gorio, conduttrice televisiva, ha presentato la sua candidatura a sindaco del capologo pugliese nello spazio polifunzionale di Anche Cinema, supportata dalla lista civica Bari Città Aperta. Tante le criticità del territorio che hanno spinto la candidata a scendere in campo, per ultimare quel percorso di inclusione iniziato da De Caro e addetta dall'ancor woman, non concluso, partendo proprio dalle zone periferiche della città. Io non mi vergogno di dire che sono nata al quartiere San Paolo, la mia famiglia ancora è nata al quartiere San Paolo, so le difficoltà che ci sono in questi quartieri e so quanto è difficile per un sindaco amministrare e occuparsi delle periferie, ma il mio primo punto, e quello che farò nei prossimi giorni, è proprio di andare lì, in quei quartieri, in quella gente molto spesso dimenticata, a vedere come vivono, quali sono le loro necessità, perché una città bisogna governarla occupandosi di tutti. Un'esperienza, quella di Manila Gorio, maturata come conduttrice tv appassionata di politica, nel cui salotto televisivo si sono alternati esponenti di tutti gli orientamenti. Proprio dalle criticità emerse durante la sua attività lavorativa e la sua conoscenza del mondo politico, sarebbe nata la volontà di una candidatura che fosse pronta a rompere gli argini degli schieramenti politici. Io non voglio fare false promesse, perché purtroppo raccontando la politica tutti i giorni mi sono resa conto di aver incontrato tanti politici onesti, ma di aver incontrato anche tanti politici che dicono tante chiacchiere e che sono abituati a stare sulla poltrona.